Un importante incontro formativo in materia di privacy è stato ospitato dal Comune di Formicola e rivolto ai segretari comunali, dirigenti e dipendenti dei Comuni in sintonia con il regolamento europeo. I lavori, ben organizzati dal Comune di Formicola, si sono svolti presso la suggestiva struttura del Palazzo dei Virginiani nel cuore del centro storico del piccolo Comune della comunità montana di Montemaggiore. Al corso hanno partecipato numerosi iscritti provenienti da diversi Comuni, particolarmente interessati al trattamento dei dati personali. Il sindaco di Formicola, Michele Scirocco, ha fatto gli onori di casa, si è detto felice della riuscita dell'evento. Noi lo abbiamo sentito a margine dei lavori. Allora, sindaco, perché proprio a Formicola? Allora, a Formicola perché abbiamo riscontrato l'esigenza di aggiornare i dipendenti e questa esigenza è venuta anche dall'impulso che ha dato il nostro segretario comunale, il dottor Antonello Bonacci. Abbiamo trovato subito l'adesione di alcuni comuni, infatti si parla di 11-12 comuni, e della comunità montana del Montemaggiore, i quali sono stati molto sensibili rispetto a queste problematiche, perché sappiamo tutti che la nuova legge sulla privacy comporta degli obblighi e degli annempimenti ulteriori rispetto a quelli che abbiamo già posti in essere e con delle sanzioni anche molto pesanti. Ecco, noi stamattina parliamo di privacy. Sì, di aggiornamento della legge sulla privacy, perché la legge che entra in vigore a maggio comporta degli aggiornamenti, degli ulteriori obblighi e doveri a carico delle pubbliche amministrazioni, ma non solo, anche delle società di telecomunicazioni e di altri operatori. Ripeto, con sanzioni molto, molto elevate. Quindi parteciperanno chi esattamente? Allora, parteciperanno i dipendenti comunali, i segretari comunali e i dirigenti comunali di 12 comuni e della comunità montana del Monte Maggiore. Hanno dato l'adesione circa 45 tra dipendenti, segretari, eccetera. Diciamo che il pezzo forte di tutto questo è il relatore. Infatti il dottore Buono è una persona molto competente, molto richiesta per questo tipo di formazione ed è questo che ha convogliato qua a Formicola tutti questi dipendenti comunali. Da Formicola è tutto, Lorenzo Applauso per casertasera.it